Ragazzi, io sono Tatiana Rinati e oggi siamo in un nuovo video! Ma questa sono io, quella di prima. Martina, la polvere. Brava, ma siete troppo golosone oggi. Morezza, Morezza. Sofia, Martina, fagli vedere Morena. Morena. Lei è la più scema, ragazzi. È vero. Anna, lei è la più scema, ragazzi. È vero, è vero, è vero. E lui è il più freddino della musica. No, è lei. No, che cosa? Ma che stai facendo? Lui è il freddino, il freddino della musica. Ma secondo me, no! Se non si spera. No, ma se non succede più. Brava! Scegliete voi chi è il più scemo nei commenti. Ok, ciao! E un bel mi piace, mi raccomando. E un bel non mi piace. Ciao! No, no! E iscrivetevi al canale! Non fate commenti perché se no vi uccido! Non fate commenti, non fate commenti perché se no vi uccido! Non fate commenti, non fate commenti perché se no vi uccido! Non fate commenti, non fate commenti, non fate commenti perché se no vi uccido! Non fate commenti, non fate commenti, non fate commenti perché se no vi uccido! Non fate commenti, non fate commenti, non fate commenti perché se no vi uccido! Non fate commenti, non fate commenti, non fate commenti, non fate commenti perché se no vi uccido! Non fate commenti, non fate commenti, non fate commenti, non fate commenti perché se no vi uccido! No, va!